Niente, cosa dire, guardate un po' voi, la serata com'è, stamattina già era un disastro, però i nostri amici mi hanno detto no, andiamo, andiamo, vuol dire ragazzi guardate che hanno avuto ragione. Siamo in chiesa. Allora, abbiamo sempre il nostro stufato d'asino con Polenta. Niente, dai, a breve, perché abbiamo una grossa orchestra che ci fa ballare tutti stasera, no? Ecco, e grazie ancora a tutti e buona serata e buone vacanze. Grazie Guido, un altro applauso per lui, grazie al presidente del gruppo folcloristico arconatese per questo aiuto importante in questi cinque anni, non solo in questo, ma in tutti gli anni in cui noi abbiamo organizzato questi eventi, questo è l'ultimo. Vedremo, raccogliamo l'augurio di riuscire a proseguire anche nei prossimi anni, non diciamo oltre. C'è Jimmy Arena qua, sempre presente con Arconate Forum. Grazie, è arrivato il momento. E iniziamo a farvi ballare perché se no diventa tardi di presentare una band che è stata con noi, pensate, dov'è Roby sin dal primo anno di questa grande avventura dal 2014. Sì, è vero. Sì, è vero, lo chiamiamo su sul palco, insomma, così vi facciamo un grande applauso. Grazie. Un'amicizia che è nata ormai storica, quattro anni fa. Felici di essere sempre qui. Grazie. Pertanto diceva adesso il presidente che finché ci sarà lui noi saremo presenti a far ballare la gente arconatese in questa magnifica serata, e noi finché ci avrò l'orchestra, magari un domani non ce l'ho più, però... Ho detto che 75 anni chiudo, eh, facciamo ne ho ancora 20 da portare. Vediamo, loro ci hanno accompagnato, dicevo sempre, sono una band storica, gli arconatesi si sono affezionati. Facciamo un grande applauso, ci accompagneranno lungo tutta questa serata, ai Panna e Fragola! Grazie, grazie, grazie. Buona serata. Vai. Signore, signore e signori, buonasera e benvenuti in questa magnifica serata in Piazza Tarconate. Un grande evento, un grande spettacolo. Per l'orchestra di Panna e Fragola andiamo a cominciare questa bellissima serata con la musica 360 gradi per voi. Divertimento assicurato e voglia di divertirvi con voi. Per l'orchestra di Panna e Fragola e Fragola e Fragola e Fragola e Fragola e Fragola. Grazie al corno e a te. Ciao. Lo stupore della notte spalancata su un mar Ci sorprese che eravamo sconosciuti io e te Poi nel buio le tue mani di improvviso sulle mie È cresciuto troppo in fretta questo nostro amore Vete il momento io voglio dire che a Dio ti chiamerai Vete il momento io voglio dire che a Dio ti chiamerai Io voglio dire che a Dio ti chiamerai Vete il momento io voglio dire che a Dio ti chiamerai Vete il momento io voglio dire che a Dio ti chiamerai Vete il momento io voglio dire che a Dio ti chiamerai Vete il momento io voglio dire che a Dio ti chiamerai Ciao grazie Arconate grazie grazie bravi primi ballerini E con la verissima cumbia si va subito a iniziare a danze Come voi Ciao grazie a tutti 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 Ciao grazie a tutti